E' giallo, appaternò una segnalazione, ha avviato le indagini dei carabinieri su ritrovamento per strada in via Giovanni Verga del cadavere di un uomo nei pressi di un rifornimento di benzina. Un marocchino di 27 anni ucciso con diverse coltellate. Secondo una prima ricostruzione il delitto sarebbe stato commesso al culmine di una lite. L'omicida sarebbe uno straniero. Il delitto è avvenuto vicino a un'area di servizio e i carabinieri, una volta giunti sul posto, hanno prima avviato i rilievi per comprendere l'esatta dinamica e le cause del decesso e successivamente acquisito le immagini delle telecamere di sicurezza della stazione di servizio che potrebbero aver ripreso l'assassinio e l'evoluzione della lite prima dell'omicidio. La procura di Catania ha aperto un'inchiesta.